C'è in Campania un popolo che sta morendo di timore di mancro, un popolo decimato, stiamo morendo di timore di mancro, che è la nostra terra dei fuori, che ci sta uccidendo in un modo silenzioso. Signora Ministra, Roberto, Roberto Sagiano, la caporra nella terra dei fuori ci sta uccidendo, siamo stati questa mattina con i giornalisti delle Viene al cimitero di Caimano, tutti i giorni, i giovanissimi, i ventenni, i trentenni, morti di cancro e di leucemia, per favore porgete lo sguardo su questa terra a nord di Napoli e a sud di Caserta. Grazie. 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 Grazie.